Ho milioni di più ma vivo in un monolocale, mi fa volare, mi fa volare. Mongolfiera Wants You. Non spaventatevi, nessuna chiamata le armi, bensì qualcosa di più divertente e simpatico. Un'originalissima iniziativa On The Beach del centro commerciale Mongolfiera Lecce, che in queste settimane sta animando le spiagge, sorprendendo i turisti che affollano il Salento. Un evento che fino al 21 agosto intende promuovere i saldi andando alla ricerca di Miss e Mister Mongolfiera. Da Frigolese a Cataldo, da Torre Specchia a San Foca, fino ad Otranto e ancora da Porto Selvaggio a Gallipoli, con fasce, telecamere, microfoni e la ricerca del bello e della bella, che potranno partecipare ai casting in spiaggia. Obiettivo diventare il nuovo volto di Mongolfiera Lecce. Si comincia dalla registrazione di divertenti mini-video, interviste di presentazione postati poi sui canali social ufficiali. Per 60 finalisti, quindi, la possibilità di accedere a colpi di like alla superfinale domenica 27 agosto, presentata dalla bellissima Miss Italia nel mondo Barbara Clara. Per i vincitori delle due categorie, la straordinaria possibilità di essere coinvolti nelle campagne d'immagine del centro commerciale, come modelle e modelli alle sfilate, testimonial di iniziative o presentatori nell'angolo social. E per aglietare anche i più piccoli, venerdì 4 agosto, dalle 18 alle 20, spettacoli in galleria con i mini-musical Mary Poppins e Rapunzel, in collaborazione con l'Acqua Parca Ignazia, oltre ad animazione, giochi e baby dance. Insomma, un'estate quella targata a Mongolfiera, l'insegna del divertimento, l'allegria e, perché no, la possibilità di diventare un volto noto, investendo sul proprio futuro lavorativo. Nome Antonella Cognome Conte Età 24 Di dove sei? Barletta Titolo di studio Laurea triennale, prossimamente magistrale, centro della comunicazione. Invita la gente a venire al centro commerciale. Ah ragazzi, se venite al centro commerciale troverete tante promozioni e tante offerte a questa bellissima ragazza. E il simpatico? Claudio Claudio Perché il centro commerciale dovrebbe sceglierti? Allora, uno perché sono pugliese, due perché sono bella, dai, no, sono modesta dopo di ciò anche, e tre dai, così, per un'esperienza nuova. Questi giovani di oggi no, però, io ti giuro mai li capirò.